Anche Pianello e Nibiano aderiscono al sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti. A partire da lunedì, 21 marzo, prima nel comune di Nibiano, e da venerdì 8 aprile anche a Pianello spariranno dalle strade i cassonetti dei rifiuti. Al loro posto ogni famiglia dovrà utilizzare contenitori di colore giallo per la carta, marrone per la frazione umida e nero per l'indifferenziato, che settimanalmente verranno svuotati casa per casa dagli incaricati di Iren. A Nibiano si parte quindi già da questo lunedì, 21 marzo, con il ritiro dei cassonetti, mentre gli uomini di Iren cominceranno a prelevare i rifiuti casa per casa da mercoledì 23 marzo. Ad essere interessati saranno gli abitanti del comune capoluogo e delle sole frazioni di Stra e Trevozzo. Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto, abbiamo creato una commissione ambienti rifiuti, per certo sulla raccolta dei rifiuti eravamo in difficoltà, eravamo tra gli ultimi comuni della provincia di Piacenza e tra gli ultimi comuni in Italia. Il progetto ci consentirà di arrivare a superare il 60% della quota differenziata, quindi saremmo certamente avanti. Ho notato una cosa positiva nell'incontro con i cittadini, che c'è proprio una disponibilità, era quasi attesa questa modifica. A Pianello si parte invece venerdì 8 aprile con il ritiro dei cassonetti e lunedì 11 aprile con il primo passaggio casa per casa per il ritiro dei rifiuti. Ad essere interessati saranno i soli abitanti del comune capoluogo, mentre per le frazioni al momento non è previsto nessun cambiamento. Noi già a tempi indietro avevamo pensato di partire con il porta a porta, ma i tempi non erano maturi. Abbiamo pensato che questo periodo fosse il periodo giusto per poter iniziare. Noi nell'arco di qualche anno pensiamo di arrivare a questo fatidico 70%. Sia Nibiano che Pianello resteranno solo i cassonetti per la raccolta del vetro, della plastica e delle lattine. In entrambi i comuni resteranno inoltre in funzione le due stazioni ecologiche. Con Nibiano e Pianello il porta a porta interessa ormai tutta la Valtidone. Fanno eccezioni i due piccoli comuni di Camminata e Pecorara, dove si continuerà con l'attuale sistema.